Si quello come è? Nuovo ancora solo nelle farmacie, fermo restando. Chi ha ragione Crisanti? E credo sia anche... Allora in realtà io non è che posso mandare all'aria una vita di cure nella quale ho fatto anche dei vaccini soltanto perché non me ne faccio uno che mi fa terrore. Non crede rettiliani, quindi infatti... I cantanti come Bobbi che si sono schierati contro i vaccini sono anche i virologi che hanno tentato di provare a fare i cantanti contro questo vaccino. Anzi, contro questo perché tutti gli altri... Ciao Massimo, ciao Giuseppe, grazie! Giuseppe ci lascia! Vediamo questa scheda, c'è da allora, il terrorismo islamista a cui abbiamo assistito l'11 settembre ma significa anche lavorare per un nuovo ordine mondiale. Politica estera, comune, difesa, comune. I terroristi hanno fallito. Il nostro amore per la libertà, per la democrazia e per la vita è più forte di prima. Viva le donne! 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 Quindi l'operatrice sanitaria prende la scala, si arrampica, la persona positiva esce, insomma, così dalla finestra. Se la Cina avesse collaborato nell'inizio di questa storia non sarebbe un problema. è perché i positivi sono contagiosi. questo test è quello per me. Con l'arrivo dell'euro le persone non hanno più dovuto cambiare la valuta per viaggiare o per cui nessun dato viene conservato da parte nostra. Ecco, qui c'è un controllo in atto. manderà la propria posizione Whatsapp sull'utenza. Vi confermo che l'invio della posizione è istantaneo e il dato viene subito cancellato. Non ha creato nessun problema, diciamo, era già a corrente della procedura che stiamo adottando e adesso dovrebbe mandarmi dentro pochi minuti la posizione. La gente preferisce addirittura, anziché avere il vigile alla porta di casa, mandare la posizione. I'm coming from the left side of the spectrum, that isn't quite clearly. I'm coming from the left side of the spectrum, that isn't quite clearly. I'm coming from the left side of the spectrum, that isn't quite clearly. E poi, se mi consentite una battuta, io penso che lui nel 2018... Sì, certo, mi ha bloccato l'opera. Per il bacino. ...ad evitare di contagiare gli altri. Quindi questo è un problema. Discriminazione, solitudine, dolore. Sono i numeri di una mattanza inaccettabile. Allo stesso modo di chi vede l'educazione e istruzione. Sono le armi che abbiamo per rovesciare gli stereotipi. Le leggi non bastano se le menti non cambiano. È questo l'impegno comune che tutti dobbiamo assumere oggi per vincere la battaglia contro la violenza. Sciagalli!